Stiamo attraversando indubbiamente un periodo molto molto caldo e molto siccitoso. Mi rivolgo in questo caso particolarmente alle popolazioni e ai territori della provincia di Pesaro Urbino. Perché faccio questa considerazione? Perché buona parte di quei territori, la città di Fano, la città di Pesaro, ma anche molti altri comuni limitrofi, soprattutto quelli della costa, si approvvigionano di acqua potabile attraverso acque di superficie, in particolare l'acqua del fiume Metauro, che poi viene ovviamente potabilizzata ed immessa negli acquedotti sia di Fano che di Pesaro e anche di altri comuni. Come abbiamo visto non sta piovendo e non pioverà da qui perlomeno ai prossimi giorni e prossime settimane. Il fiume Metauro è già molto provato, anche dal fatto che durante l'inverno non abbia mai nevicato e quindi anche le falde in montagna sicuramente saranno molto abbassate e più scarsi rispetto al passato. Allora qual è il vero problema, il vero pericolo? Che da qui alle prossime settimane, proprio nel pieno dell'estate, se continua a non piovere, noi potremo avere seri problemi di approvvigionamento idrico in parte della nostra provincia e nelle città più importanti della costa. Allora qual è la mia raccomandazione? Noi abbiamo scritto come Dipartimento Ambiente della Regione Marche, abbiamo scritto a tutti i sindaci della provincia di Peso Urbino chiedendoli di fare le ordinanze per il risparmio idrico, quindi dare, diciamo così, delle indicazioni ai cittadini e porre anche dei divieti di utilizzo per quello che si può fare a meno. Ma io voglio andare oltre, al di là dell'obbligo delle ordinanze, quindi invito i sindaci a fare le ordinanze, invito i sindaci a poi vigilare sul fatto che le ordinanze vengano rispettate, perché si può fare a meno di utilizzare l'acqua per un po' di cose che non sono obbligatorie. Ma quello che ci tengo particolarmente, proprio rivolgendomi a tutti i cittadini, ognuno di noi nelle proprie attività, nelle proprie consuetudini, nelle proprie abitazioni, faccia attenzione allo spreco di acqua. Se ognuno di noi ogni giorno risparmia due litri di acqua, pensate, rapportato a centinaia di migliaia di persone, quanti litri di acqua giornalieri si possono risparmiare. Quindi ecco, c'è un'obbligatorietà che chiedo ai sindaci di far rispettare attraverso l'ordinanza, attraverso i controlli, ma c'è anche un buon senso di attenzione al quale io richiamo tutti quanti i cittadini.